Prima di passare la parola ad Andrea De Marchi vorrei anche segnalare un altro, un ulteriore effetto lemme, soprattutto prima ricordavo che l'aspetto catalografico, le schede, eccetera, hanno una loro continuità, affidate come sono ad Alessandro Agresti, a Francesco Petrucci, allo stesso Fabrizio, a Federico Lemme, e poi ci sono alcuni cantucci poetici, penso all'affidamento del quadro del bellissimo ritratto di giure consulto di Lavinia Fontana ad Arnaud Breuer della Vernier, e penso a Rosenberg che fa la scheda su San Francesco in preghiera di Frerluc, a Sergio Guarino che fa la scheda sul pittore Lombardo del XVIII secolo, San Carlo Borromeo, che invoca la cessazione della peste, piuttosto che Spinosa con le allegorie dell'architettura e della geometria, della pittura e della scultura. Ecco, ma c'è una scheda, e questo è il motivo di questo mio breve intervento, dedicata da Marco Tanzi a Luigi Miradori, detto il genovesino, probabilmente di ambito stroziano e genovese, il bimbo che gioca con la trottola, ecco, dove si sente quello che chiamavo la persuasione morale di Fabrizio Lemme, in quanto tutte le schede, senza rinunciare all'acribia filologica, hanno un loro carattere dubitativo che lascia un po' in sospeso il carattere identitario della stessa opera, in maniera tale che sia possibile far confluire nell'opera stessa più possibili interpretazioni, e questo è straordinario. Il quadro di Miradori, in realtà, è un quadro non bellissimo, forse, ma c'è la straordinarietà del riferimento al quadro di Bucuresti, al quadro di collezione privata, l'angelo che segnala la trinità al committente. Ecco, c'è una strana idea di pittura, di complessità, di formazione dei contenuti della pittura, per cui viene giustamente da Tanzi invocato, forse, il rapporto con Calderon della Barca, per i suoi rapporti tra Genova e Piacenza. Ecco, una complessità di rimandi e di riferimenti che lasciano aperto a prospettive ulteriori, a una pluralità di possibili interpretazioni, senza la fissità catastale e notarile della scheda data e chiusa, con un carattere di unicità e universalità. Grazie. Devo parlare io? Ecco, allora, Francesco prende come esempio di suo intervento un dipinto che, quando acquistai, io ritenevo potesse essere di ambito strozzesco. Anzi, ero convinto che fosse da riferire a Bernardo Strozzi. Ne parlai poi con Marco Tanzi e Marco Tanzi disse, sì, è un genovese, ma non è un genovese puro, perché è un genovese lombardo, in quanto Luigi Miradori si è trasferito poi a Milano e ha sviluppato, in senso di manierismo lombardo, la sua originaria formazione genovese. Ora, che cosa ha di caratteristico questo dipinto e quasi tutte le altre opere che ho io? La problematicità. C'è un'opera splendida di Giorgio De Chirico in cui si vede un suo autoritratto e sotto c'è la scritta Ossia, l'enigma è in realtà l'aspirazione somma dell'animo, perché nessuno di noi vuole delle verità che siano statiche, assolute, definitive, ognuno di noi vuole delle verità che siano ambulatorie, che possano aprire la strada ad altre verità, che possano aprire la strada ad ulteriori ricerche. Mi ricordo che quando, tanti tanti anni fa, ci fu una cerimonia per gli 80 anni di Giuseppe Ungaretti, Giuseppe Ungaretti si presentò di fronte al simposio che era stato organizzato in suo nome e disse, per i miei 80 anni vi leggo una poesia di amore che ho scritto ieri. Ed era una poesia d'amore toccante, scritta da un uomo che aveva 80 anni. Ecco, vi prego di credere che pura casualità, io ho una copia del libro che si presenta oggi. Che cosa ho dentro la copia del libro che si presenta oggi? Come due poesie d'amore. Perché domani vado a vedere un quadro che mi è stato proposto. Mi è stato scritto, è un'opera di Ribera. Quando io l'ho visto, ho detto, è un Riberescom, non è Ribera. Potrebbe essere Hendrik van Sommer. Mi sono messo a studiare Hendrik van Sommer e mi è apparsa una testa di apostolo che è sicuramente della stessa mano del dipinto che vado a vedere domani. Ecco, questo è collezionismo. Ricercare infaticabilmente le verità, ma non attribuire mai ad esse un carattere di definitività. Domani acquisterò probabilmente il dipinto. Il dipinto è probabilmente van Sommer, ma potrebbe anche non essere van Sommer. Potrebbe anche essere un ulteriore pittore napoletano del 600 che segue le orme di Ribera. Ad esempio, Juan Do di Cativa in Spagna, che è stato riconosciuto come uno degli autori ribereschi più significativi del 600 napoletano. Ecco, le verità non debbono essere mai definitive, ma debbono essere sempre delle verità che schiudono la strada a nuove ricerche ed a nuove verità. E' per questo che io considero un emblema fondamentale della vita la famosa porta Onze-Rue-la-Ré di Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, nel 1927, quando abitava in questa piccola via parigina, in una casa molto modesta, ricevette la visita di una giornalista americana che gli fece un'intervista e a un certo punto gli disse «Ma qual è la sua verità?» E allora lui disse «Ma la verità non esiste. La verità è qualcosa di transitorio, di illusorio. Vede, nel momento stesso in cui si ritiene di avere chiuso in una formula concettuale la verità, ci si ascorce che c'è qualcosa di scoperto che la formula concettuale non riesce ad includere. La verità è una porta perennemente aperta e chiusa, come quella là». E fece vedere, ed era nella sua casa, una porta che stava su un angolo e operava su due telai che erano contrapposti l'uno all'altro. Questa porta diventò l'emblema della verità di Marcel Duchamp. Tant'è vero che venne esposta nella Biennale di Venezia del 1972 e lì si è verificato il caso più curioso e più divertente che mi sia capitato nella vita professionale perché era stato dato d'incarico agli operai del colorificio Giorgione. Io penso a una vendetta di Giorgione contro questo dissacratore che era Duchamp. Comunque era stato dato in carico agli operai del colorificio Giorgione di ricostruire un traliccio che avesse simulato questa porta che era contemporaneamente aperta e chiusa. Gli operai realizzarono il traliccio, dettero una mano di vernice al traliccio, poi videro questa porta che doveva essere inserita lì nell'argano, nell'angolo e che era tutta sporca e dissero diamo una bella pulita anche a questa porta provocando addirittura lo svenimento di Fabio Sargentini. Quando Fabio Sargentini arrivò, che era il padrone della porta, arrivò alla Biennale di Venezia e vide la sua porta dissacrata da questa pittura fatta dai bianchini, cadde per terra svenuto e ci fallero i famosi sali per farlo rinvenire. Quindi da questo nacque una causa che io ho condotto fino in Cassazione ed ho vinto perché lì si diceva questo. Da una parte una perizia splendida e lo dico in omaggio a Beatrice Mirri Fagiolo che è qui presente, una perizia splendida fatta da Maurizio Fagiolo che si dimostrava che la porta, ormai profanata, era irrimediabilmente perduta. Da un'altra parte una perizia non meno abile, devo dire la verità, di Tommaso Trini che si diceva che la porta verniciata aveva acquistato una nuova patina, un nuovo significato storico che si aggiungeva al suo precedente. Quindi praticamente non solo era perduta, non era perduta, ma anzi era aumentata di valore. Quando andammo in Cassazione io temevo che il Presidente della Corte di Cassazione mi avesse detto avvocato, concluda. Invece il consigliere relatore e il Presidente furono affascinati da questa problematica. Ho discusso in Cassazione civile quasi un'ora, cosa che non mi è mai più capitata che non mi era capitata prima, che non mi è mai più capitata dopo e non mi è stata mai tolta la parola. E se leggete la sentenza, è una sentenza esemplare, una sentenza dove si parla del ready-made. Immaginate, i parruccori della Corte di Cassazione che parlano del ready-made, dell'arte Dada, di Tristan Zara, delle origini Marcel Duchamp. È una sentenza che io conservo gelosamente, non solo perché testimonia un mio successo professionale, ma perché testimonia un incontro tra diritto e cultura. Guardate, oggi questi incontri da diritto e cultura non sono più all'attualità. Oggi, per essere avvocato, bisogna innanzitutto sapere raccontare bene le barzellette, perché gli avvocati che hanno successo sono quelli che intrattengono i giudici con barzellette e quindi dialogano con i giudici che amano le barzellette. Di giudici che siano colti ce ne è sempre di meno. C'è qualche vecchio giudice ai limiti della pensione che ha ancora ambizioni culturali, ma sono sempre di meno. Quindi è sempre più mortificante fare l'avvocato, come purtroppo continuo a fare io. Ma perché vi ho parlato di questo? Per dirvi che cosa è per me collezionare. Per me collezionare è innanzitutto un atto d'amore e perciò ho detto che queste due immagini di quadri di Henrik Van Sommer sono le mie due poesie d'amore che ho scritto a 80 anni. E poi collezionare e soprattutto ricercare. ricercare, non pensare mai di fronte a nessun oggetto di essere arrivato a una verità definitiva, immaginare sempre che ci sia un percorso conoscitivo, un percorso conoscitivo che è valido non soltanto per le opere del passato, ma anche per le opere del presente. Perché anche nelle opere del presente il percorso conoscitivo non si esaurisce mai. Quando ci si trova di fronte a una bella opera di pittura come è un notevolissimo pittore il mio presidente maestro Gianni Desi si capisce una cosa che la verità che nasconde in quel quadro è sempre enigmatica rimanda un'altra verità e così all'infinito come in un romanzo di Dino Buzzati. Ecco vi ho voluto rendere questa testimonianza con grande amicizia.